Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Come ormai sapete, verso metà anno vi racconto un po' come è andata la prima metà dell'anno, quali sono gli obiettivi che sono riusciti a raggiungere, quelli che sono rimasti un pochettino in sospeso e ovviamente anche quello che succederà da qui in avanti, quindi da qui fino alla fine dell'anno. Siccome agosto è sempre un mese un po' fermo, questo video è anche un'occasione per vedere se magari vi siete persi qualcosa di interessante all'interno del canale, perché fidatevi, ci sono state alcune belle novità e anche per recuperare alcuni video che potrebbero esservi utili. Magari potrebbero tenervi compagnia in un periodo in cui solitamente non escono tante cose. Quindi diciamo che per me è anche un modo per tenervi compagnia, imparare cose nuove e partire al meglio a settembre. Dato che solitamente questi sono video un po' più tranquilli e fondamentalmente possono anche essere solo ascoltati, vorrei partire parlandovi di una grande novità che chi ha seguito il canale già conosce. Infatti a partire da aprile di quest'anno sono passata a ditta individuale. Lo avevo comunicato in questo video che vi lascio qui in sovraimpressione e insomma sono felicissima. Per me è un grande traguardo e colgo l'occasione per ringraziarvi di nuovo tutti quanti, perché ovviamente questo non sarebbe stato possibile senza il supporto di tutti i miei studenti e tutte le persone che quotidianamente supportano i miei contenuti. Perciò grazie. Per l'occasione avevo fatto anche un cambio di look che appunto mostro nel video che vi ho indicato prima, dove vi racconto meglio perché sono passata a ditta individuale e anche vari progetti. Se vi fa piacere sotto il video trovate il link. Siccome quest'anno volevo disegnare un po' di più, dato che l'anno scorso avevo disegnato molto poco, mi ero ripromessa di sfruttare in un certo senso le registrazioni che avrei fatto durante il processo di disegno per realizzare alcuni contenuti da portare qui nel canale, senza però comprometterne la qualità. In realtà si è rivelata anche un'occasione per realizzare dei nuovi tutorial e devo dire che questa cosa mi ha resa molto contenta perché non solo ho raggiunto ogni obiettivo, ma sono riuscita a sfruttarla anche in un altro modo. In particolare sono nati due nuovi video tutorial dedicati a Procreate e uno di questi è stato particolarmente apprezzato. I due video sono come creare sfumature con Procreate e 10 trucchi Procreate per disegnare in digitale. Poi avevo creato anche un altro video dove fornivo alcuni tips e consigli e anche in questa occasione avevo approfittato di una videoregistrazione fatta di un nuovo disegno creando appunto questo video che parla di 5 errori che vi impediscono di migliorare. Come potete vedere questo format ha funzionato quindi sono veramente molto contenta soprattutto perché sono riuscita a disegnare un pochino di più rispetto all'anno scorso e ovviamente questa cosa mi rende felice perché comunque come sapete a me piace disegnare se no non sarei qui. Oltretutto sono riuscita a creare dei contenuti utili anche per voi e quindi ovviamente sono molto contenta. A proposito di nuovi disegni, questo nuovo format mi ha aiutata anche a creare un nuovo mini corso perché disegnando di più ho avuto la possibilità di apprendere nuove tecniche di colorazione e fra l'altro ho anche cambiato un po' il mio stile. Il metodo che ho cercato di apprendere è diverso rispetto a quello che usavo prima ed è adatto soprattutto a coloro che disegnano in maniera un pochettino più libera. Per esempio nel disegno manga abbiamo delle line art pulite e lineari mentre in quest'altro stile che sto cercando di sviluppare ecco la line art è in un certo senso più libera e anche la colorazione e devo dire che mi sta piacendo. Per realizzarlo ho iniziato facendo una via di mezzo fra lo stile manga e quello realistico. Per chi non lo sapesse tanti anni fa, l'avevo mostrato comunque anche all'interno del video nel canale io disegnavo realistico e poi sono passata al manga per le ragioni che appunto ormai conoscete mi piace appunto guardare gli anime e leggere i manga. Questa trasformazione ha portato poi alla creazione di un nuovo video dove ho realizzato un redraw di un disegno che per me è molto speciale perché si tratta del primo disegno che avevo realizzato per il mio corso di colorazione ma il redraw di questo disegno l'ho utilizzato per creare un nuovo mini corso dedicato proprio alla colorazione professionale. E devo dire che sono molto contenta perché nonostante il mini corso sia uscito da poco ho già ricevuto i primi feedback ed è arrivata anche una video recensione tutti i feedback positivi quindi la cosa mi ha resa comunque molto molto contenta. Se vi può interessare sotto a questo video vi lascio il link del mini corso di colorazione avanzata e spero vi piacere. L'anno scorso come sapete avevo iniziato a realizzare i primi video in collaborazione e ero davvero molto emozionata. In particolare erano nati perché stavo cercando di capire che cosa potevo portare all'interno del canale per arricchire i suoi contenuti con argomenti che però avevano bisogno di professionisti per essere trattati. Quindi dopo la piacevole esperienza che ho avuto l'anno scorso quest'anno ho proseguito con questo format e sono nate anche delle nuove collaborazioni. Il primo è quello con Caterina Rocchi fondatrice della Luca Manga School. Se amate Disegno Manga sono sicura che conoscete questa scuola o comunque ne avete sentito parlare. Per me questa collaborazione è stata fantastica perché nel video abbiamo parlato di una tematica che mi chiedete sempre in tantissimi ma che comunque volevo realizzare con qualcuno che fosse professionista e comunque esperto ecco in questo settore. Nel video parliamo di come creare un portfoglio per illustratori. Quindi come potete capire si tratta di un video che non mi sentivo di realizzare da sola in quanto comunque serve possedere determinate competenze ma soprattutto avere anche esperienza in questo settore. Soprattutto nei contatti con le case editrici per esempio e quindi è nata la collaborazione con la Luca Manga School. Abbiamo parlato appunto di come creare un buon portfoglio, come presentarsi alle case editrici, errori da non fare assolutamente che fra l'altro sono errori che come dicevamo nel video, come diciamo nel video, sono anche molto comuni e spesso si danno per scontato. Se vi può interessare comunque sotto al video vi lascio il link di riferimento. Il secondo video invece è stato realizzato con il team di Rike Chain. L'anno scorso avevo già realizzato un video con loro dove parlavamo del diritto d'autore e siccome vi era piaciuto molto abbiamo deciso di realizzare insieme anche un altro video dove parliamo di una tematica molto attuale che sta preoccupando tantissimi artisti. Mi riferisco infatti all'intelligenza artificiale. Nel video parliamo di cosa sono le AI, quindi appunto queste intelligente artificiali, come funzionano e come tutelarsi. Siccome Rike Chain si occupa di diritto d'autore, il video è stato realizzato mantenendo il focus su questa tematica. È veramente molto interessante e vi consiglio, se ancora non l'avete visto, di darle un'occhiata. Per quanto riguarda le collaborazioni dietro le quinte, ho continuato a realizzare il piano editoriale con Giancarla, alias Copi a Puntino. Ve ne avevo parlato anche in quest'altro video che vi lascio qui in sovraimpressione, perché mi ero trovata molto bene e grazie a lei e alla creazione appunto di questo piano editoriale riesco a gestire meglio quella che è la pianificazione del blog e anche poi collegandosi dei miei video qui sul canale. In questo modo riesco a dedicare più tempo al disegno, a supportare e seguire i miei studenti e realizzare quindi nuove risorse, tutorial e corsi per voi. Ormai siamo al terzo rinnovo, quindi è la terza pianificazione semestrale che facciamo insieme e mi sto trovando molto bene. Ma non è finita qui perché ad ottobre di quest'anno inizierò anche una nuova collaborazione che avrà un notevole impatto, spero positivo, sul mio brand e sulla mia attività. Per ora però non posso rivelarvi altro, quindi non posso dirvi di chi si tratta né esattamente che cosa faremo, ma vi prometto che a tempo debito saprete tutto. Cambiando argomento, come vi dicevo prima, quest'anno ho cercato di disegnare di più rispetto all'anno scorso, perché come sapete comunque gestire un'attività richiede tanto tempo e questo mi porta via tanto tempo che potrei dedicare al disegno. L'anno scorso questa cosa mi aveva frustrata veramente tanto, ero finita anche in burnout, insomma non era stata una bella situazione e non volevo che si ripetesse anche quest'anno. Devo dire però che per il momento anche se a fatica ci sto riuscendo, quindi sto comunque disegnando di più rispetto all'anno scorso e già questo è positivo. Fra l'altro disegnando di più mi ero accorta anche di non amare più i miei disegni e questo mi faceva stare male perché finalmente riuscivo a disegnare un pochettino di più, ma non ero contenta perché non mi piacevano le mie illustrazioni. Devo dire che è stato un momento abbastanza buio, però alla fine ci sono saltata fuori e approfittando di questa situazione ho creato anche un video perché mi sono accorta che il mio stile di disegno stava cambiando, aveva bisogno di alcune trasformazioni, poi alla fine è cambiato e nel video appunto vi racconto come è cambiato il mio stile, che cosa è successo e come ha superato questo blocco. Magari può esservi utile perché se anche voi siete bloccati e non vi piacciono le vostre illustrazioni, ecco probabilmente il motivo potrebbe essere lo stesso che stava bloccando me, quindi magari il video potrebbe esservi utile per sbloccarvi. L'ultima cosa che era rimasta in sospeso per quest'anno e che non ero sicura di aprire erano proprio le consulenze. Invece sopra ogni aspettativa alla fine ho deciso di aprirle, in parte perché tanti di voi mi avevano chiesto aiuto per migliorare le proprie illustrazioni e anche perché credo che un confronto diretto sia il modo migliore per individuare subito gli errori che si stanno commettendo e non trascinarsi di poi dietro per tanto tanto tempo. E soprattutto sono anche il modo migliore per ricevere un feedback personalizzato su quella che è la propria problematica in base al nostro livello attuale e a quelli che sono i nostri obiettivi. E poi siccome si tratta di una cosa che comunque mi avete chiesto in tantissime e numerose volte, ho deciso che era il momento di tenere uno spazietto anche per le consulenze. Sotto a questo video trovate il link per maggiori informazioni e naturalmente se avete qualsiasi dubbio scrivetemi a info-creolisa.it e siamo arrivati alla fine del video. Io spero che passerete un piacevole agosto anche se ormai siamo quasi alla fine del mese e comunque in ogni caso spero che abbiate passato una piacevole estate che vi stiate guistando questo periodo di riposo sostanzialmente e mi raccomando rilassatevi. Se avrete bisogno di compagnia o vi andrà di esercitarvi nel disegno digitale vi invito a guardare i vari video di cui abbiamo parlato all'interno di questo video. Sotto comunque vi lascio tutti i link. Per quanto riguarda me andrò al mare quindi mi guisterò un paio di settimane di vacanza cercherò di rilassarmi di ricaricarmi per ripartire poi a settembre al top spero. Noi ci rivediamo a settembre con tanti nuovi contenuti. Ciao!